calta nissetta sono sei indagati dopo la morte di lino la cagnina all'ospedale sant'elia lite per la precedenza su una strada dell'agrigentino marito e moglie finiscono all'ospedale nel ricordo di santina cannella l'iniziativa calta nissetta per l'otto marzo calcio eccellenza domenica alle ore 15 la nissa ospiterà allo stadio marco tomaselli il cus palermo ben trovati apriamo il telegiornale con la cronaca calta nissetta sei indagati per la procura nissena per la morte all'ospedale del giornalista la cagnina il servizio sono sei medici destinatari di un avviso di garanzia per la morte del giornalista nisseno lino la cagnina deceduto all'età di 74 anni a margine di un intervento programmato per la riparazione della orta addominale sono indagati tre chirurghi due anestesiste e un radiologo in questa fase si tratta di un atto dovuto dopo la querela di parte presentata dalla famiglia del giornalista la procura ha aperto un fascicolo fissando la data dell'atopsia per il prossimo 7 marzo la famiglia di la cagnina chiede di capire se il decesso si sarebbe potuto evitare secondo la versione dei familiari l'intervento sarebbe dovuto durare poche ore mentre si sarebbe prolungato più a lungo in tutto nove ore l'intervento sempre secondo quanto sostenuto dalla famiglia sarebbe stato realizzato con una nuova tecnica consigliata dai medici ora con l'esame dell'autopsia si potrà fare chiarezza e capire come chiedono i familiari se l'intervento sia stato eseguito correttamente controlli dei carabinieri nel nisseno sequestrati coltelli e droga sono 135 le persone identificate negli ultimi giorni sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio da parte della compagnia carabinieri di calta missetta nel corso dei quali sono stati verificati 89 automezzi elevate sette contravvenzioni al codice della strada ritirate una carta di circolazione una patente identificate 135 persone sequestrati due coltelli un tubo di ferro 9 grammi di marihuana e 2 grammi di hashish in particolare sono stati deferiti un 44 n per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere perché fermato a piedi e sottoposto perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama a punta della lunghezza di 17 centimetri un 39 n poiché controllato a bordo di autovettura e a seguito di perquisizione veicolare veniva trovato in possesso di un tubo di 80 centimetri che trasportava senza giustificato motivo un 40 n controllato a piedi e sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 16 centimetri un 21 n per detenzione di sostanza stupefacente perché fermato a piedi e sottoposto perquisizione è stato trovato in possesso di 8 grammi di hashish successivamente posti sotto sequestro nel medesimo contesto operativo sono stati segnalati alla prefettura di caltanissetta quali assuntori due soggetti che detenevano per uso personale hashish e marihuana continuiamo con la cronaca ci trasferiamo nell'agrigentino lite per una mancata precedenza di fronte al centro commerciale valle dei templi un uomo e la moglie sono finiti in ospedale i dettagli nel servizio è iniziato tutto a causa di una mancata precedenza nella rotonda del centro commerciale città dei templi di agrigento l'episodio si è verificato mercoledì mattina quando un uomo di 53 anni di agrigento insieme alla moglie è finito al pronto soccorso dell'ospedale san giovanni di dio a causa di una lite avuta con un uomo di 59 anni di porta empedocle per la mancata precedenza nella rotonda davanti il centro commerciale secondo quanto ricostruito dalla polizia l'uomo empedoclino avrebbe staccato con un morso parte della cartilagine dell'arcata dell'orecchio in ospedale è finita anche la moglie del 53 anni agrigentino a sua volta aggredita che era intervenuta per dividere due litiganti marito e moglie dopo aver chiamato la polizia sono stati trasferiti in ospedale e si sono riservati di formalizzare querela di parte a carico del loro presunto aggressore l'uomo 59enne di porta empedocle la polizia ha tratto in arresto un 53enne gelese in esecuzione di un provvedimento emesso dalla procura della repubblica di gela per i reati di rapina ed estorsione aggravato in concorso l'uomo è stato condotto alla carcere di caltanissetta dove dovrà scontare una pena di un anno di recusione passiamo a parlare di sicurezza stradale nuova segnaletica verticale e limiti di velocità a caltanissetta parla l'assessore comunale ivan rando vediamo i particolari erano già stati preannunciati dall'assessore ivan rando a gennaio i nostri microfoni dei provvedimenti sulla viabilità cittadina lo stesso aveva anche incontrato sul tema della sicurezza stradale la seconda commissione consigliare e così secondo direttiva assessoriale si prevede l'installazione di nuova segnaletica verticale in città come limite di velocità di 30 chilometri orari in alcuni tratti stradali dove necessario relazione al flusso veicolare e pedonale in alcune vie invece sono stati installati degli stuosori elettronici come anticipato qualche settimana dietro è stato dato il via alla mia direttiva assessoriale che prevedeva l'installazione di nuova segnaletica verticale in maniera tale da creare un ulteriore deterrente con limiti di velocità 30 in tutti quei tratti stradali condivisi con la commissione consigliare con tutta l'aggiunta e che potessero essere dovessero essere maggiormente attenzionati per via di un flusso veicolare o pedonale che ne creasse la necessità sono stati gestalati di stuosori elettronici in via rogister via luigi monaco in via due fontane e in via la regina margherita e continueremo con tutti gli altri tratti soprattutto in vigilanza delle scuole così come da direttiva e valutando caso per caso ovviamente compatibilmente con le motivazioni tecniche che poi ci riportano al codice della strada per scegliere se poter inserire dissuosori elettronici o soltanto la segnaletica verticale recante il limite di velocità. Abbiamo peraltro continuato a portare avanti un finanziamento che abbiamo ottenuto l'anno scorso con un progetto di messa in sicurezza dei siti stradali per la riduzione del tasso di incidentalità che consiste nella realizzazione di alcune soprelevazioni della pavimentazione stradale sulla quale base vengono poi nuovamente ridisegnate le strisce pedonali quindi si tratta di squisitamente di attraversamenti pedonali che andranno a integrare quelle già individuate appunto nella direttiva. Inoltre stiamo anche portando avanti le esigenze di alcuni quartieri che ne hanno fatto richiesta o di una miglioria della segnaletica orizzontale della segnaletica verticale. In merito invece al sistema semafoile ricorico al momento non funzionante in corrispondenza di Piazza Europa negli incroci tra via Catania e via Calabria. Abbiamo verificato in autonomia come peraltro di nostra competenza per la gestione ordinaria dei semafori stessi ma abbiamo poi verificato che il problema che si è creato era un problema che non potevamo risolvere internamente quindi siamo in attesa che venga completata la manutenzione da parte di una ditta specializzata che ci aiuterà nella sostituzione della centralina che è andata rovinata. Quindi sicuramente a breve verrà ripristinato il semaforo di via Catania. Rimaniamo nel comune Nisseno con l'iniziativa Casa a un euro il punto della situazione sulla proposta avanzata dal consigliere comunale Fabrizio Di Dio. Era stata approvata in consiglio comunale quest'estate la mozione Casa a un euro presentata dal consigliere comunale Fabrizio Di Dio, un'iniziativa già avviata in altri comuni e che punta alla riqualificazione del centro storico attraverso il recupero di edifici che verrebbero così ristrutturati e messi in sicurezza dai nuovi acquirenti, un modo anche per attirare investimenti in città. Procedono intanto gli incontri con i professionisti che operano nel settore. Dopo aver effettuato un incontro con il dirigente della direzione seconda e con il vice sindaco a Mussomeli nel mese di novembre, proprio per confrontarci su come questa misura che poi è risultata vincente e è stata perseguita dal comune di Mussomeli, il dirigente ha preso degli spunti per lavorare su questa bozza di regolamento che aveva legato. Nel frattempo ha sentito anche alcune categorie di agenti immobiliari i quali hanno avuto un primo contatto formale con il dirigente e successivamente si sono incontrati un paio di giorni fa invitandomi per approfondire quelli che erano i vari articoli all'interno del regolamento e per verificare quali potessero essere eventualmente i punti da dover adattare al nostro territorio. Ho visto che c'era molto entusiasmo da parte di almeno 10 agenti immobiliari e questo è sicuramente un punto di forza perché ritengo che agenzie immobiliari e notai sono quelle che è il primo passaggio burocratico che si effettua nell'andare ad acquistare queste casoneuro. Molta gente è interessata a donare, chiamiamola donazione o comunque vendita, queste case spesse volte abbandonate, spesse volte pericolanti e dall'altro canto anche delle richieste da parte di amici che vivono fuori, che vivono a Nord Italia che mi chiedono che sono molto interessati. Quindi se riusciamo ad unire domande e offerta, io sono convinto che un primo step per quanto riguarda la riqualificazione potrebbe essere sicuramente importante. In fase di definizione dunque gli ultimi dettagli e modifiche alla bozza di regolamento per poi tornare in Consiglio Comunale. Tutto questo è gestito dalla direzione seconda che all'interno sta portando le opportune modifiche e o integrazioni che potrebbero essere utili. Il regolamento passerà dalle commissioni competenti e poi ritornerà per essere approvato, allegato alla mozione che è stata approvata nel mese di luglio. Ritengo che i tempi sono maturi, dobbiamo sbrigarci. In una follatissima assemblea tenutasi nella Sala Borsellino a San Cataldo è stata sottolineata l'importanza della realizzazione del Policlinico Universitario a Caltanissetta. In una nota diffusa da Gianfranco Cammarata del collettivo Letizia si legge Il territorio ha tutte le caratteristiche e le strutture che sono necessarie e propedeutiche. Cammarata evidenzia che anche il presidio ospedaliero Raimondi dovrebbe trarre grande vantaggio dalla istituzione del Policlinico di Caltanissetta, divenendo una delle punte di diamante della istituenda struttura quale Polo Oncologico. Nel ricordo di Santina Cannella l'iniziativa nel Comune Nisseno per l'8 marzo. L'8 marzo verrà ricordata la storia di Santina Cannella. Lei a Caltanissetta dalle 10 sarà dedicato un raduno davanti alla Chiesa San Giuseppe e poi in corteo verso Via Firenze. Si concluderà il percorso con la deposizione di una targa in sua memoria. L'iniziativa continuerà nel pomeriggio dalle 18 alla sala comunale Polo Borsellino di San Cataldo dove verrà presentato il libro Ti bacio quando torno di Salvatore Lombardo e Cataldo Loiacono. Qui seguirà il dibattito sulla violenza di genere e sul patriarcato durante il quale interverranno l'avvocatessa Valentina Matrascia e la professoressa e sociologa Graziella Priulla. Insieme a figure esperte, impatti, analizzeremo come il tema della violenza viene affrontato all'interno delle sentenze con un confronto tra ieri e oggi e affronteremo temi importanti che ciò che spesso sta alla base della violenza come la cultura dello stupro e il sessismo di cui ancora la nostra società è tristemente intrisa. Temi che vanno affrontati ogni giorno per combattere ed abbattere finalmente il patriarcato e garantire così i diritti di tutte le donne. L'iniziativa organizzata da Democratiche, quartiere Providenza San Giuseppe e associazione Galatea Onlus con il patrocinio dei comuni di San Cataldo e Caltanissetta ricorda la storia di questa giovane ragazza che l'8 marzo del 1954 fu assassinata a soli 15 anni proprio nel quartiere Providenza a colpi di pistola all'uscita da scuola, morta per mano dell'uomo che platonicamente si era invaguito di lei l'estate precedente. Santina era nata a Marianopoli nel 1938, sognava di diventare una dottoressa, lei che studiava liceo classico a Caltanissetta e che in quel tragico giorno di marzo di 69 anni fa fu assassinata. In Italia nel 2022 sono stati 273 gli omicidi, 104 di questi sono stati femminicidi. Sempre a Caltanissetta, raccolta differenziata, l'esito dei controlli porta a porta ha scaturito 19 rifiuti non conformi su 26. Vediamo insieme. Durante la settimana dal 20 al 25 febbraio 2023 la Polizia Municipale in collaborazione con gli operatori d'asti ha effettuato controlli porta a porta sui rifiuti in diverse vie del capoluogo nisseno. In particolare sono state controllate le seguenti vie fra Giarratana, Gorizia, Cardinale Dusmet, Generale Cascino, Serpotta, Guardavascio, Saccarella, Mule, Edmondo De Amicis, Viale Trieste, Via Brancati, Via Romagnoli. Dai risultati ottenuti su un totale di 26 rifiuti controllati, ben 19 non erano conformi alle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. La separazione dei rifiuti è una pratica importante per limitare la crescita delle discariche, recuperare le materie prime attraverso il riciclo, prevenire l'inquinamento atmosferico e del suolo. La Polizia Municipale e gli operatori d'asti continueranno a lavorare per sensibilizzare i cittadini sull'importanza del corretto smaltimento dei rifiuti e per garantire che le norme vengano rispettate. Apriamo l'ampia parentesi dello sport con il calcio. Domenica allo stadio Marco Tomaselli, la Nissa ospiterà per il campionato di eccellenza il CUS Palermo. La sconvitta di domenica scorsa al Vincenzo Presti di Gela ha lasciato l'amaro in bocca in casa bianco scudata. Il calo di tensione nei minuti finali o solo tanta sfortuna ha già lasciato il segno durante la stagione e i ragazzi di Alessio Sferrazza cercano di ritrovare la vittoria domenica pomeriggio a Tomaselli alle ore 15 contro il CUS Palermo, squadra che occupa il penultimo posto in classifica. Compito sulla carta agevole per i bianco scudati che saranno privi dello scolificato di Biase e espulso nel primo tempo di domenica scorsa a Gela. Intanto in settimana è arrivato l'annuncio di Luca Giovannone che dalla prossima stagione diventerà il nuovo presidente della Nissa. Eccellenza, Gilonea, ventiquattresima giornata. Parmonval, Profavara. Agragas, Mazzarese. Casteldaccia, nuova città di Gela. Leon Fortese, Don Carlo Misilmeri. Mazzara, Enna. Nissa, Cus Palermo. Oratorio, San Ciro e Giorgio Castellammare. Sciacca, Resuttana. Continuiamo con il calcio. Serie D ci trasferiamo a San Cataldo dove domenica i Verdamaranto ospiteranno per la ventisesima giornata del Gironei il Trapani. In casa sancataldese si avvicina il grande appuntamento di domenica prossima, 5 marzo, quando alle 15 al Valentino Mazzola arriverà il Trapani. Per la squadra di Infantino, di fronte a un avversario di Blasone, è la possibilità di riscattare la sconfitta in terra campana contro il Santa Maria Cilento. Il Trapani arriva a San Cataldo con l'intento di portare a casa l'intera posta così da migliorare la posizione in classifica in vista dei play-off, obiettivo dichiarato dei Granata. Ci sarà certamente l'atmosfera delle grandi occasioni con la società di casa che per l'occasione ha indetto la giornata Verdamaranto. Questo è il programma della ventisesima giornata del campionato di Serie D, Gironei. Domenica, 5 marzo, con calcio d'inizio, alle 14.30, Castrovilla-Rilocri, Cittanovese-Vibonese, Città di Acireale-Ragusacalcio, La Mezzia-Terme-San Luca, Paternò-Mariglianese, Realla-Versa-Santa Maria Cilento, alle 15 Canicattilicata, Città di Sant'Agata-Catania e San Cataldese-Trapani. Parliamo di volley femminile, Serie B2, domenica l'Alba Verde-Caltanissetta sarà di scena in Calabria. Le ragazze puntano al bottino completo. Il servizio. L'Alba Verde va in cerca di certezze e di punti per continuare a rimanere in ballo nelle primissime posizioni di classifica. Lo farà in trasferta a Crucoli, nel difficilissimo campo della Fidelis Torretta. Quest'impegno costituisce uno snodo cruciale per misurare le ambizioni della formazione guidata da Francesca Scollo. L'incontro tra le padrone di casa e le palavoliste nissene è il match clou della quinta giornata di ritorno del girone M della Serie B2, con le padrone di casa a quattro lunghezze dalle nissene, che occupano il terzo posto in classifica, a un punto dal Crotone e a quattro dallo Zafferana. Sabato mattina, breve rifinitura al Palapicasso, dove nel pomeriggio alle ore 17.30 andrà inizio il match con la Fidelis Torretta. Volley, Serie B2, Girone M, 18esima giornata. Gioiosa Stefanese, Fidelis Torretta Albaverde, Ardens Comiso Cuscatania, Planet Pallavolo Crotone, Brico City Funivia Etna, Saracena Zafferana, Volley Region Procoria Ricina. Chiudiamo con il basket. Domenica per l'Invicta sarà il momento di gara 1 dei play-off. Tutti particolari. Dopo aver chiuso la regular season da imbattuti e inanellando record su record, l'Invicta Basket torna in campo domenica 5 marzo in gara 1 del play-off, alle ore 18 al Palacanizzaro contro il Sant'Agata. Si prevede una grande affluenza di pubblico per sostenere gli uomini del coach Giuseppe Spena. In questa prima gara di andata con il ritorno previsto per domenica 12 marzo. I cestisti nisseni conoscono molto bene il Sant'Agata, avendolo affrontato già due volte in campionato, ma il play-off e la tensione possono giocare brutti scherzi, ma l'Invicta scenderà in campo con il solo obiettivo di vincere. Basket, play-off, gara 1. Sporting Adrano, Siracusa Basket. Invicta, Sant'Agata. Zannella Cefalù, capo basket. Masca Lucia, Sales, Catania. La Cusn, dopo la vittoria di sabato scorso a Gela, affronta al Palacanizzaro la Salusport per la terza giornata del terzo turno. I cestisti nisseni vogliono approfittare della giornata di riposo della capolista Olimpia Ragusa per agganciarlo in testa alla classifica, ma la Salusport, terza forza del campionato, tenderà di giocarsela a viso aperto e di avvicinarsi alle due battistrada. Basket, promozione, girone D, terza giornata del terzo turno. Fenice Priolo, nuova città di Gela. Cusn, Salusport, riposa Olimpia Ragusa. Era l'ultima notizia, vi lascio al meteo e alle notizie di pubblica utilità. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con la nostra programmazione. Ben trovati in aggiornamento con la tendenza per la giornata di venerdì, quando ancora un ciclone mediterraneo terrà sotto scacco tutta Italia con precipitazioni. Il nord in realtà vedrà schiarite sempre più convincenti perché l'alta pressione sarà in rinforzo. Un'alta pressione enorme proprio a nord delle Alpi con i massimi tra Mare del Nord, Isole Britannica e Francia. Sull'Italia quindi ancora questo minimo di bassa pressione in lenta traslazione verso est e gli effetti con la prossima cartina dove possiamo notare tante nuvole ancora al centro-sud, delle piogge e anche qualche temporale coinvolte ancora le due isole maggiori con clima ventoso. Il nord invece vedrà rassenamenti sempre più ampi. Tutti i dettagli precisi li trovate però anche per il weekend scaricando l'app gratuita di Trapi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno, al Duomo, via Filippo Paladini Servizio notturno, del Corso Corso Vittorio Emanuele Servizio notturno, della croco Servizio del Corso Vittorio Emanuele Servizio di sarei